ecco a voi bozo il clown più famoso del mondo salve amici bozo è il finto clown bozo ha firmato un contratto di un milione di dollari bozo come ha fatto ma adesso quel clown possiede un milione di verdoni big shorty bene un milione di verdoni qui un milione la che bella cosa e non ti piacerebbe essere un milionario big short certo short big ma come hai visto bozo la tua foto è su tutti i giornali davvero buccio allora me ne comprerò una dozzina di copie ma che succede rapiremo quel clown e poi chiederemo un riscatto big shorty sei proprio bravo short big oh no vogliono rapire bozo bozo cosa c'è buccio due ceffi ti vogliono rapire sei in pericolo ah si voglio proprio vedere se ci riescono adesso vesto questo gorilla con un mio costume somiglia bozo bene questi furboni avranno una bella sorpresa e i bozo sono già arrivati e qui dentro big shorty allora muoviamoci short big e aggiungiamo quel clown vieni con noi l'ho preso l'ho preso guarda bocci ci sono cascati hanno preso il clown sbagliato questo clown è stranamente silenzioso non ancora ha detto neanche una parola che cosa diavolo hai detto vorrei vedere le facce di quei lestofanti quando scopriranno di avere rapito un gorilla c'è di bozo siediti clown e chiama il tuo capo e digli che non ti lasceremo libero se prima non avrà sborsato diecimila verdone e che cosa fai al telefono buffone non sarai per caso nervoso stai molto attento a quello che fai clown non è sai ok adesso facciami mettimi giù ti ho detto di mettermi giù clown penso che qui due impareranno come si devono trattare il gorilla non dobbiamo lasciare uscire quel clown da qui short bigy quel clown sta cercando di scappare lo fermo io preso big shorty non ho capito chi ha preso chi short bigy levati dalla mia schiena donato clown questo boss è troppo forte per noi firma questo segno clown ecco la penna non guardarla fa una firma piuttosto ma come ti permetti hai finito di fare il buffone scappiamo big shorty prima le donne poi bambini scappa aiuto eh big shorty sono dentro la cornice non fare lo stupido quella specie di clown sta arrivando ancora il mio piedone sono curioso di sapere come se la starà cavando il gorilla bozzo cosa c'è capo si può sapere che cosa sta succedendo bozzo guardami è arrivata questa lettera ascolta adesso te la leggo dunque le daremo 5000 dollari se viene qui si riporta via il clown bozzo firmato due truffatori venditi e allora bozzo che cosa significa tutto ciò beh vedi capo è una lunga storia e anche molto divertente no 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 Oh, oh, oh! Grazie a tutti.